Vangelo del giorno, con breve commento, 30 luglio 2023, 17esima domenica del Tempo Ordinario. Ascoltiamo il Vangelo. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, Il Regno dei Cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il Regno dei Cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Questa pagina di Vangelo della diciassettesima domenica del Tempo Ordinario ci parla di un tesoro prezioso e nascosto. Due termini molto importanti. Prezioso per farci comprendere il grande valore, nascosto per dirci che Dio non si trova nella banalità, per caso, ma va cercato. Prezioso è talmente prezioso che l'uomo che lo trova vende tutto ciò che ha, quindi lascia tutto ciò che ha per impossessarsi di tutto ciò che trova, che vede. Anche noi, se vogliamo far tesoro, se vogliamo far spazio nella nostra vita, nel nostro cuore, a qualcosa di più grande, dobbiamo liberarci di qualcosa di inutile, futile. Perché? Il Signore non ci chiede di abbandonare le cose belle. Il Signore ci chiede di abbandonare le cose stolte. Il Signore non ci dice di non essere felici. Il Signore ci invita ad essere felici nella bellezza della felicità, della gioia, delle cose belle. Il Signore non vuole che abbandoniamo le amicizie, ma vuole che le scegliamo se ci fanno stare sulla retta via. Ecco, prezioso, cosa siamo disposti a lasciare per avere questo tesoro? Nascosto, Dio va cercato, Dio va desiderato, Dio va invocato, Dio va trovato. E il Signore, a chiunque lo cerca, si lascia trovare. Allora, noi oggi esaminiamo il nostro cammino, la nostra condotta, la nostra fede. Che cosa è di più prezioso nella nostra vita? È il tesoro che è Dio, lo abbiamo trovato? E dico a tutti, in particolare ai giovani che in questi giorni saranno protagonisti della GMG a Lisbona, ma lo dico a tutti voi, lasciamo la comodità del divano per incontrare la bellezza del Divino. Mettiamoci in movimento, come Maria andiamo in fretta a trovare questo tesoro e non teniamolo per noi, ma condividiamolo. Buona Domenica a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.